Tantico in avanti per provare a togliere riferimenti all'ascolto. Si sta anche assottegnando qui l'occhio all'autoperrucchio amoroso da parte di Peruchini. Cosa è combinato il portiere? L'autoperrucchio amoroso qui l'errore di Peruchini che nel tentativo di riportare il pallone sul sinistro. Se la spigge in porta, questo è l'atteggiamento di Fibarini. Sinispera, chiaramente è picco Peruchini. Fibarini non l'ha presa bene, tra poco ci racconta tutto.